Berlusconi però ha detto se non seguiamo il PPS, se non seguiamo l'Europa io non farò parte di questa maggioranza. Voi insieme al Fratello Italia però avete votato contro la risoluzione europea appunto su Orban. Insomma come sono i rapporti, come si sente di rispondere a Berlusconi? C'è un programma comune per l'Italia, poi a Bruxelles la Lega e Forza Italia sono in due gruppi distinti. Però in Svezia voglio dire hanno appena votato democraticamente, la sinistra che era al governo è andata a casa e ha vinto il centrodestra ma è il bello della democrazia. In Ungheria hanno votato da poco, in Francia hanno votato da poco, negli Stati Uniti voteranno in autunno quindi quando voti chi vota ha sempre ragione. Quindi un conto è la collocazione internazionale, noi comunque saremo sempre orgogliosamente con le alleanze occidentali, libere e democratiche. Punto. Poi io non voglio interferenze straniere in casa mia, io non vado a interferire in casa altrui, Polonia, Austria o Danimarca o altri paesi. Centrodestra ha un programma comune per governare l'Italia nei prossimi cinque anni, quindi a questo programma io, Giorgio e Silvio ci atterremo scrupolosamente per cinque anni.